Tienilo, presto! È pesante. Ne facciamo altri? Troviamo. Ho lavorato fino all'ultimo secondo. Momento critico. Ci sei. Ma il pezzo è ancora sul puntello. Dobbiamo staccarlo. Vai, staccalo. No, così, esatto. Giralo, giralo. Ok. Sì, ora staccalo. Preso. Oh, no! Mettilo via. Ok, al lavoro. Qui. Che disastro. Abbiamo lavorato con tanto impegno a quel pezzo. Ma porca miseria. Non voglio presentare vetri rotti. Ma non ho altra scelta. Quindi è quello che farò.